Marco Pappa, portiere della Ginnastic Fondi, dopo una partita del genere sicuramente si può avere ambizioni importanti in campionato? Beh, noi sappiamo che vogliamo fare bene e vorremmo migliorare la posizione dell'anno scorso, poi affrontiamo partita per partita in modo decisivo e pronti a prendere i tre punti, poi quello che viene, viene. C'era tanta amarezza dopo quel K.O. subito con la Puntina Futsal? Sì, tanta amarezza con una squadra che comunque ammazza grandi, anche perché anche il Futsal Latina è uscita sconfitta contro il Puntina Futsal, però siamo pronti a ricominciare il nostro cammino sempre puntando in alto. Qual è stata secondo te la chiave di questa partita? Molto agonismo, del resto è la vostra caratteristica, forse è stato importantissimo chiudere il primo tempo sul vantaggio? Assolutamente, poi il gruppo secondo me ha fatto il resto, c'è un gruppo fantastico, il nostro spogliatoio è molto unito e siamo tutti convinti che vogliamo fare bene, poi ognuno ci mette del suo, la giocata, il gol fortuito, oppure ecco il gruppo proprio che ci dà una mano. Alessandro D'Angelo, questa sconfitta in casa del Fondi non ci voleva più che la classifica anche per il morale, soprattutto dopo due sconfitte di fila, non è proprio un momento perfetto della squadra? No, non è un momento perfetto anche se i risultati sono un po' bugiardi perché stiamo giocando fondamentalmente un bel calcio a cinque e anche se non riusciamo a trovare golle e ogni palla che sbagliamo fanno la ripartenza e ci segnano, come appunto la partita di oggi che abbiamo preso due golle su due nostri errori, quindi diciamo che i risultati sono bugiardi, però con l'andare avanti delle partite il campo dirà la sua. Proprio questi errori tecnici sui gol subiti, cosa secondo te non sta andando nella squadra, soprattutto in fase difensiva? No, è una squadra nuova, abbiamo unito due gruppi, c'è ancora da amalgamare un po' la rosa, capire un attimo, entrare nei meccanismi del mister e speriamo che le prossime partite andranno sicuramente meglio. Come si può superare questo momento di difficoltà? Perché in cinque partite e tre sconfitte c'è bisogno soprattutto di voltare pagine immediatamente. Assolutamente sì, è pur vero che abbiamo perso ma è anche vero che abbiamo giocato contro tre squadre abbastanza organizzate che puntano comunque alla vittoria finale del campionato. Dobbiamo fare gruppo, ci dobbiamo continuare ad allenare e i risultati verranno sicuramente. Stefano Scala per Mondofuts al TV